allorché comincerete a fare un lavoro spirituale in maniera rigorosa e vi velocizzerete sul cammino dell'ascensione in poco tempo sarete molto vicini a realizzare i vostri obiettivi ricordatevi sempre che l'amore è la chiave cari miei l'amore vi aprirà tutte le porte e vi farà procedere speditamente nel vostro cammino verso la piena libertà spirituale io sono adama vostro fratello in lemuria dal libro telos 1 rivelazioni dalla nuova lemuria ciao a tutti amici amiche di quinta dimensione letture sono sempre io non vi siete sbagliati ho aperto oggi con una diciamo con un'affermazione che viene appunto dai libri di telos che oggi volevo anche consigliarvi parleremo nello specifico del decreto invocazione della fiamma violetta del settimo raggio che mi avete chiesto e richiesto e visto anche quanto vi è piaciuto poi il decreto dell'arcangelo raziel chi non l'ha visto lo vado a vedere tra i video del mio canale facciamo anche quest'altro diciamo un contenuto al mese lo mettiamo diverso dal solito di crescita proprio personale spirituale anche se negli interattivi comunque che faccio c'è sempre qualche spunto lo stesso è per la crescita personale lavorare con l'energia eccetera e quindi appunto patto prima facendovi vedere questi libri poi andiamo subito con con san germen e la fiamma viola io vi volevo consigliare vivamente i libri di telos che sono quattro proprio per scoprire anche il discorso di lemuria per scoprire eventualmente se siete stati dei lemuriani anche voi se avete partecipato proprio alla creazione se avete vissuto in questo continente no che è diciamo è come atlantide infatti sono spesso paragonati insieme nella storia nei racconti e in quello che di scientifico si può trovare riguardo questi due continenti lemuria e atlantide io mi sto riferendo qui con telos nello specifico al continente di lemuria questo è telos 1 e sentite pure tanto per dire che cosa dice il mondo di avatar esiste davvero gli abitanti di lemuria dopo la catastrofe che ha visto l'inabissamento del loro continente hanno imparato a vivere nella quinta dimensione sotto il monte shasta nel nord della california e si sono dati come missione quella di assistere la terra nel suo processo di ascensione e guidare gli uomini verso una coscienza superiore poi dopo dice anche altre cose eccetera e dice appunto adama che all'alto sacerdote di telos che è poi la frase con cui vi ho aperto il video noi di telos sembriamo tanto diversi da voi per il solo fatto che esprimiamo naturalmente il nostro essere divini in ogni momento ma sono libri ragazzi guardate io proprio ve li consiglio perché vi aprono veramente tutto un mondo e l'ho consigliati già ad altre persone che veramente hanno vi ho visto che hanno veramente cambiato poi tutto il modo di vedere la vita sono andate avanti molto nella nel loro discorso di crescita personale da una cosa bellissima questa telos 2 messaggi per illuminare un'umanità in trasformazione che è appunto il secondo volume dei libri di telos dove adama e maestri ascesi maestri di luce ci incoraggiano a scegliere a creare per le nostre vite un destino di gioia e grazia poi vedrete andando avanti quanto sono belli acquistateli proprio perché partite dall'uno perché poi vi faccio vedere il 4 che è veramente una un po mattone però ha un senso è perché dovete partire dall'uno per capire tutta la storia poi abbiamo il telos 3 protocolli della quinta dimensione appunto sempre qui ci sono nuovi insegnamenti in questo volume e qui si inizia anche a parlare di queste famose fiamme dei sette raggi di cui oggi ci occuperemo partiamo dal settimo noi perché sento così di fare c'è bisogno di fiamma viola questi giorni vedo allora facciamo così questo appunto è il terzo volume qui si comincia a parlare di queste sette fiamme ognuna delle meditazioni a dei raggi colorati particolari poi andando avanti approfondiremo nel mio canale tutti questi discorsi anche le altre fiamme i colori le invocazioni e le meditazioni per proprio ripulirvi e infine c'è telos 4 le sette fiamme sacre appunto dicevo questo però ragazzi è allora leggete prima l'uno il due il tre ve lo consiglio perché c'è tutto un filo da seguire questo è l'apice dei libri che ha scritto questa carissima aurelia luis jones che ovviamente non è più con noi non è più con noi anzi vi leggo chi è perché bravissima veramente aurelia luis jones è nata a montreal nei primi anni del 40 nel 1989 si è trasferita negli usa per seguire la sua vera vocazione unitasi ai fratelli della luce e all'ordine di melchi sedek nel 1998 è stata nominata ministro del culto da allora si è dedicata anime corpo alla sua missione spirituale per diffondere i messaggi di verità che portano all'ascensione ha terminato la sua vita terrena il 12 luglio 2009 è brevissima praticamente ragazzi questi libri sono tutte canalizzazioni canalizzazioni di questi appunto esseri lemuriani maestri ascesi l'alto sacerdote di lemuria che appunto adama e tutte altre insomma forme spirituali presenti tuttora all'interno del monte shasta in questa città di quinta dimensione quindi una città eterea cioè una città che voi non vedete va bene una città altamente evoluta e spirituale dove ci sono anche oltre ad essere posizionati anche in altri posti del mondo dove ci sono i portali di questi maestri ascesi i portali di queste energie che dove ci sono queste fiamme per ognuna delle fiamme nei libri c'è scritto dove si trova il portale in che punto proprio la città lo stato in modo molto molto preciso che dirvi io ve li consiglio moltissimo questi libri chi vuole anche nel tempo se li può acquistare piano piano se li legge partite sempre dall'uno ragazzi perché veramente c'è sono discorsi perché insomma iniziate piano piano con queste cose che piano piano diciamo la vostra evoluzione vedrete che crescerà sempre di più andrà sempre avanti e allora iniziamo intanto con questo maestro nostro carissimo il mio particolare Saint Germain che è appunto maestro asceso adesso vi vado a leggere un po' ho preparato un po' di materiale poi andiamo col decreto e con l'invocazione però dovete sapere anche di chi parlo non abbiate la fretta di andare a fare le cose sentite capite che cosa state facendo se no è come se non lo faceste recitare a pappagallo solo perché c'è fretta in realtà il risultato non ve lo fa raggiungere la consapevolezza la presenza in te è importante quando fai una cosa devi sapere di cosa stai parlando magari guarda il video più e più volte prima ti senti magari solo la spiegazione poi ti senti dei libri poi ti senti il decreto poi ti senti l'invocazione perché così si fa con la fretta non si va da nessuna parte allora noi oggi oggi parliamo di Saint Germain però vi spiego che un maestro asceso è comunque un uomo o anche donna perché ci sono anche diciamo le donne è un essere umano che ha realizzato la sua missione terrena e ha raggiunto un livello di evoluzione tale da trasmutare il proprio corpo e andare oltre il ciclo delle reincarnazioni un maestro asceso abita se così si può dire in una dimensione dove spazio e tempo non esistono dimora nello spirito che è uno nel regno della coscienza cristica e può insegnarci la via per l'evoluzione anche attraverso rite e cerimonie appunto proprio perché ragazzi sono maestri ascesi quindi essendo ascesi conoscono e possono consigliarci anzi i maestri ascesi ci amano profondamente vogliono desiderano moltissimo la nostra ascensione il nostro passaggio appunto alla quinta dimensione che altro dirvi vediamo ancora di Saint Germain mi ero preparata un po di cose chiamato anche ermette trismegisto maestro straordinario che ha assunto molteplici identità nei libri di telos ragazzi ci sono anche le diverse incarnazioni di ogni maestro asceso per esempio uno è stato un mago merlino un altro è stato un altro è stato il Gesù Cristo appunto con nomi diversi ovviamente per ogni incarnazione però veramente apposta vi dico che vi si apre un mondo quando andate a leggere nello specifico di questi maestri ascesi oggi quindi parliamo del settimo raggio di cui appunto il maestro asceso Saint Germain è il custode va bene si chiama custode ed è appunto il custode di questa splendida fiamma violetta che è appunto uno strumento sacro e il maestro Saint Germain mette a disposizione nostra e di tutte le persone di buona volontà invocandole è possibile ottenere lo sviluppo di queste qualità tipo per esempio ma non sono solo queste la misericordia la compassione la trasmutazione e la liberazione cioè la trasmutazione ragazzi vuol dire trasmutare ok è come far cambiare ok magicamente tra virgolette ma non è per niente diciamo che è proprio un cambiare l'energia dal negativo al positivo si chiama trasmutarla quando la fiamma violetta è invocata da una persona essa avvolge individualmente ciascun atomo del suo essere e costringe le particelle di energia squalificata a causa degli errori commessi a ruotare più rapidamente ragazzi la forza centrifuga così prodotta fa in modo che tali particelle vengano proiettate nella fiamma violetta quando queste particelle entrano nella forza della fiamma violetta ottengono una liberazione vengono trasmutate e ritornano nella loro originale purezza questo qui ragazzi è molto importante vi aiuta la fiamma violetta proprio come la centrifuga della lavatrice diciamo proprio a diciamo a ripulire tutte queste particelle vostre che sono magari impregnate di negatività appunto perché perché poi si trasmutano proprio nella fiamma viola le mandiamo nella fiamma viola a trasmutare ok quindi a guarire diciamo adesso le cambiate e le trasformiamo in energia positiva allora adesso cominciamo vi faccio diciamo prima facciamo così facciamo l'invocazione prima così apriamo un po per bene vediamo chi di voi magari non conosce il famosissimo forse anche chi non è tanto avvezzo ma l'avrà sentito il famoso io sono che si riferisce alla magna presenza io sono che sarebbe il nostro se superiore il nostro se divino che i scesi ci invitano caldamente sempre a richiamare no perché si dice che il nostro se superiore in realtà conosce già tutto tutte le nostre risposte allora prepariamoci con l'invocazione intanto per aprire poi anche la strada al decreto dell'io sono che è potentissimo appunto per la trasmutazione voi quindi affermerete tramite quel decreto la volontà di trasformare chiediamo proprio di trasformare tutta l'energia è malata e come dice san germain squalificata per riportarla alla sua natura ok divina che è la sua prima natura è l'unica natura che le particelle conoscono poi si ammalano un po per nostri atteggiamenti questioni che abbiamo provocato noi ma anche non solo che non dipendono a volte solo da noi e quindi appunto usiamo la fiamma viola per andarle a a trasmutare allora l'invocazione dice così potete sempre vi ricordo come nel decreto l'altro dell'arcangelo raze ripeterla sopra a me oppure farvela per contro vostro per conto vostro ogni volta che aprite comunque che intendete fare il decreto quindi dopo vi metto sotto nell'info box tutte le sia l'invocazione che il decreto ve lo scrivo invocazione alla fiamma viola nel nome dell'io sono quel che io sono adesso invoco l'azione della fiamma viola della trasmutazione perché venga attivata all'interno della mia coscienza di tutto il mio essere e di tutto il mio mondo questa è l'invocazione alla fiamma viola quindi apriamo così può essere anche scollegata dal decreto se vi sentite di fare questa potete fare questa quindi abbiamo fatto l'invocazione quindi abbiamo chiamato la fiamma viola ed ora decretiamo l'io sono svegliamolo questo io sono questo sei superiore perché tu sei una potenza tu sei un divino solo che te lo sei dimenticato c'è da riscoprire la divinità che siamo noi perché noi siamo esseri divini purtroppo coperti da un velo da questo velo di terza dimensione che non ci permette di ricordare ma vi posso assicurare che si sono in tantissimi ricordati chi sono in tantissimi si stanno svegliando finalmente io sto contribuendo anche perché no anche questo canale anche ma proprio nel lavoro che faccio tutti i giorni comunque a far ricordare a tirar fuori se no perché dovrei parlare di queste cose potrei fare altre cose no invece no la voglio fare ve la voglio dire perché sento che è una mission è una missione è proprio una chiamata questa quindi l'io sono è importantissimo ripetetelo spessissimo io sono dopo vi ripeto vi vado a mettere sotto tutto quanto scritto alla fine facciamo anche un messaggio divino in connessione sempre con le altre dimensioni che chiamerò al momento di girare le carte anche se veramente già non sono sola comunque anche in questo momento questi sono i miei oracoli messaggi divini poi ve lo apro uno per uno va bene lo metto qui io preparo intanto il decreto del maestro san germain e dell'io sono che è veramente una potenza divina ma è una potenza di quelle potenze che non immaginate scopritelo voi scopritelo non ve lo devo dire io ragazzi i guru i maestri allora ma lasciamo stare questo maestro asceso e se uno è un semplice guru terreno così magari che insomma già solo adepti sulla terra o cosa cosa se non è asceso è l'ascensione che determina molto lo stato del maestro cioè che non è più qui ma che comunque voi leggete i libri di telos ragazzi per capire bene cosa sto dicendo se no qualcuno dice che sto dicendo non si sa di cosa parla questa qua mi capisce in questo momento chi ha letto qualcosa chissà di lemuria chi conosce già dei maestri ascesi della fratellanza bianca dei maestri ascesi eccetera per chi non ha mai sentito queste cose vi invito fortemente ad informarvi e a studiarle poi capirete bene che tutto quello che sto dicendo in questo momento ha un senso e ce l'ha anche immenso il senso allora il decreto dell'io sono ripeto ripetetelo insieme a me cercherò di andare piano ma non pianissimo perché se no sembra distorto poi fatelo voi a seconda della vostra velocità se vi piace la mia velocità lo recitate sopra me se non vi piace la velocità fatevelo voi anche questo va fatto almeno 21 giorni però è uno di quei decreti che può essere fatto anche tutti i giorni della tua vita come fosse una preghiera le tue preghiere quotidiane se le fai o inserirlo come buona pratica quotidiana da fare però la prima volta consiglio la primissima volta se non avete mai sentito se mai mai neanche letto niente di questo io sono né di san germain né della fiamma viola fate questo rodaggio iniziale di 21 giorni come per l'altro decreto che c'è sul canale poi dopo vi consiglio vivamente data la potenza di questo decreto e la potenza della fiamma viola di farlo tutti i giorni di inserirlo tra le vostre buone abitudini io parto io sono io sono la porta aperta che nessun essere può chiudere io sono l'essere che trasmuta il negativo in positivo io sono l'essere che crea la felicità in me io sono una fonte di salute io sono l'abbondanza economica io sono l'essere che ha tutti i problemi risolti io sono la giustizia divina per tutti io sono l'essere che crea una vita di prosperità io sono la forza io sono la luce io sono un raggio viola che entra nel mio corpo e trasmuta il negativo in positivo io sono ogni cellula del mio corpo che elimina il negativo io sono il dio che abita la mia casa io sono il potere la forza e la gloria io sono l'energia suprema che con la sua presenza dissolve le perturbazioni io sono l'essere che rimuove i fratelli elementali che danneggiano la mia vita io sono ciò che sono e voglio che la mia vita sia senza complicazioni io sono l'essere che ha tutte le necessità soddisfatte io sono l'essere che rimuove tutti i nemici nascosti visibili ed invisibili dal mio cammino è decretato è evocato è manifesto e così lo realizzo in nome della divina presenza dell'io sono così sia così si compia amen ecco qua ragazzi i brividi mamma mia a me mi fa sempre un effetto nonostante ormai lo conosco da tanti anni ma è sempre molto quando sei molto presente nel dirlo è veramente potente è veramente tanto la visualizzazione allora oltre a recitare chi riesce va bene chi è pratico però provateci lo stesso anche non l'avete fatto mai perché la prima volta c'è per tutti la visualizzazione sarebbe quella di visualizzare questa fiamma viola una fiamma color viola ardente va bene che vi permea tutto intorno vi entra dentro da ciacra della corona o anche da ciacra del cuore dipende come riuscite meglio a vedere come come vi sentite pratici quello che riuscite per voi va bene per voi comunque vedetevi sempre circondati da questa fiamma ardente viola perché protegge da tantissime cose anche dalle negatività è questo bel viola proprio un bel viola non non lavanda non lilla chiaro va bene perché ci sono molte sfumature il viola proprio viola violetto anche su un pochino più sullo scuretto diciamo è proprio il viola ok fiamma viola visualizzatevi anche più volte al giorno immersi in questa fiamma della trasmutazione va bene e pensate che vi sta praticamente trasmutando in ogni cellula ogni atomo ed ogni elettrone perché sapete che siete magnetici sì siete scintille siete fatti di questo di atomi di cellule di particelle quindi chiedete che questa forza centrifuga veramente potente del maestro saint germain che ci ha donato questa splendida fiamma che vi trasmuti ogni negatività presente in voi nella vostra casa nella vostra vita nel vostro lavoro cos'è che non va prendete una priorità allora prima voi stessi la priorità deve essere quindi prima ripulitevi voi con la fiamma viola poi cominciate a ripulire la vostra casa a ripulire il vostro lavoro il vostro posto di lavoro la vostra relazione mandategli la fiamma viola ecco perché ve l'ho voluta fare perché è una fiamma che si presta a tutto la fiamma viola la potete invocare la chiamate e la mandate con il terzo occhio con la vostra mente con la vostra visualizzazione in quella situazione ok in cui c'è bisogno di fiamma viola di trasmutare di eliminare le negatività se c'è una situazione brutta tra persone mandate a tutti la fiamma viola mandate a tutti la fiamma viola se c'è qualcosa non so qualsiasi cosa le persone ma anche le case gli ambienti i posti inondateli di fiamma viola vedete questo posto inondato di viola vedete proprio questa fiamma che scoppia chiamate san germain chiamate la fiamma viola e chiedete di trasmutare ricordatevi questa parola ok che è un po alchemica trasmutare trasmutazione è la fiamma viola della trasmutazione mi raccomando chi vuole chiaramente mi scriva nei commenti se non vi ricordate a parte no ve li metto comunque anche nella descrizione i libri dei titoli questi qua i libri di telos ve li metto il volume 1 2 3 e 4 ve li metto però dopo dove comprarli lo vedete voi non faccio questo insomma non è che dico meglio questo meglio l'altro vedete voi dove li trovate ma cominciate veramente perché specialmente nel telos 1 nel primo volume vi veramente vi apre tutto un mondo di quello che è il continente di lemuria di chi sono i lemuriani e non dico erano di chi sono i lemuriani e di cosa stanno facendo adesso attraverso la quinta dimensione attraverso molti risvegliati che sono stati chiamati a fare appunto un'opera di risveglio degli altri ma non perché nessuno deve risvegliare nessuno semplicemente ricordare di farvi ricordare chi siete chi c'è stato prima di voi da dove venite eh mi rivolgo anche ai molti semi stellari che mi stanno ascoltando ai molti operatori di luce che mi stanno ascoltando eccetera 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 è molto bello lo scoprire andare a vedere che cosa è che cosa non è chi magari siete stati anche in passato cercate di ricordare perché la vostra presenza io sono lo sa già che cos'è il registro akashico ragazzi il registro akashico è la presenza io sono che tutto conosce tutto sa dove c'è tutto dentro dove si detiene tutta la vostra storia da dove venite la vostra galassia le vostre vite passate chi siete da dove venite quante vite avete fatto ok sul registro akashico anche lì è nato un business incredibile e non ci cascate sempre allora il registro akashico è accessibile se volete faremo una meditazione per andare nel registro akashico va bene perché non è possibile che si deve pagare per andare nel registro akashico i maestri non vogliono questo gli esseri di luce non vogliono questo e neanche gli angeli vogliono questo smettiamola diecimila corsi per andare nel registro akashico ma dove sta scritto allora anche questo è uno dei miei compiti è veramente di fare il bulldozer verso tutte queste persone che che basta veramente perché anche i grigi e chi opera con il male con le energie scure è deve essere spazzato via da chi opera con l'energia di luce e questo sta assolutamente succedendo in questo momento qui ora e neanche da adesso quindi andare nel registro akashico se vi interessa se vi piace lo faremo faremo una meditazione gratis sottolineo gratis perché ognuno deve poter accedere alla propria conoscenza a quello che è a quello che è la sua vita la sua storia in tutte le tutte le tue vite che puoi aver avuto tutti i tuoi se dimensionali multidimensionali che è ancora sparsi nelle altre dimensioni di andare a recuperare faremo la meditazione del registro akashico e faremo anche un altro un mantra perché di metatron avevo messo un'altra cosa ma faremo proprio un mantra di metatron arcangelo metatron e faremo una cosa molto bella per questo sul fatto di andare a recuperare tutto quello che c'è sparso nelle vite passate registri akashici eccetera perché anche metatron lo fa questa cosa insomma apposta vi dicevo l'altra volta con il primissimo decreto che vi ho messo che se volete guardate qui stiamo non so quanto ci stiamo qua a parlarne quindi ho piacere se vi trovate fatemi sapere se vi piacciono questi contenuti ho piacere chi vi fa perché comunque sono così molto felice di contribuire magari al non dico risveglio di alcuni ma semplicemente di farvi ricordare un po di farvi venire qualche dubbio che forse c'è qualcosa che ancora non avete scoperto che non avete visto lavorate con le energie io sono felicissima se anche solo uno su mille che mi ascoltano poi riesca ad aprirsi riesca a vedere la luce a lavorare con la luce con le energie quindi già io ho fatto cioè nel senso ne basta anche uno ogni tot va bene perché so che è questo che devo fare ragazzi adesso vi preparo tre messaggi per voi da questi miei oracoli chiaramente canalizzati e dalle altre dimensioni non è che mi sono messo a scrivere le frasette allora adesso vi preparo intanto che mischio pensa un po a quale messaggio potrebbe arrivarti chiedi che ti sia dato in questo momento qui e ora tramite me chiedi che ti sia dato un messaggio dalle altre dimensioni per te vediamo cosa c'è qui cosa c'è da dire qui cosa c'è da dire qui che ascolta in questo particolare video in collaborazione con i maestri ascesi in collaborazione con il maestro asceso san germe in collaborazione con l'amata magna presenza mia io sono che cosa scegliete la carta 1 la carta 2 o la carta 3 io sapete che nei decreti invocazione cosa non vi metto i testimoni lo sapete scegliete distinto la carta 1 la carta 2 la carta 3 chiedete alla vostra presenza io sono di indicarvi una strada una luce chiedi mia amata presenza io sono quale carta devo scegliere mia amata presenza io sono cos'è che devo sapere ora che devo solo scoprire che deve solo essermi rivelato perché io già lo so perché la tua presenza io sono lo sa ecco perché vi dico mi dicevo non fatevi ingannare tutta la conoscenza dell'universo divina ce l'hai dentro già sei una scintilla già divina semplicemente in terza dimensione ragazzi siamo molto pesanti coperti da questo velo ma questo velo deve essere definitivamente alzato ok io parto con leggere il primo messaggio per chi ha scelto la carta 1 vediamo per te cos'è che devi sapere per chi ha scelto la 1 sei sulla giusta strada e tutto nel perfetto ordine divino numeri per te sono 5 0 0 5 5 0 manifesterai abbondanza benissimo qua i numeri vi ricordo possono essere anche scollegate scollegatevi se vedete sempre che ne so le 0 0 55 per esempio sono anche numeri d'orologio ragazzi numeri di qualsiasi cosa possono essere 500 550 poi scomponi la seconda è 0 5 50 55 lo 0 0 eccetera qui ti dice stesa 1 sei sulla strada giusta è tutto come deve essere so che a volte è dura da digerire questa perché quando ti viene una frase ti dice che tutto nel perfetto ordine divino ma tu stai a pezzi ma tu sei a terra ma magari non lavori ma magari non hai abbondanza ma magari è distrutto è stata la tua vita è stata distrutta il tuo amore è stato distrutto insomma tutte quelle cose brutte so che dura da digerire però insomma questa cosa è superabile benissimo quando lavorate dentro di voi per voi quando crescete spiritualmente questa cosa la capirete che tutto nel perfetto ordine divino anche se non sembra probabilmente dovevi fare quella strada dove avere quella lezione per farti arrivare ad una consapevolezza ad una crescita spirituale c'è sempre un motivo ragazzi sempre quindi qui ti dice che manifesterai abbondanza quindi per te c'è in arrivo questo è faremo anche i decreti per l'abbondanza ragazzi perché me l'avete chiesti è i decreti per l'abbondanza per quelli di voi che comunque devono manifestare grazie stesa 1 ho concluso è per quelli che di voi devono manifestare comunque dell'abbondanza migliorare un lavoro eccetera abbiamo dei decreti anche per questo per potenziare le energie proprio dell'abbondanza dei soldi del lavoro di cambiare situazioni proprio per quanto riguarda il materiale è va bene allora stesa 2 chi ha scelto il secondo messaggio la seconda carta cosa c'è per te cioè c'è arrivato san germain ragazzi non lo voglio dire ma guardate 44 carte mamma mia io sono luce io sono amore io sono verità io sono il numero 7 ditemi voi se non è vero il maestro acceso san germain ti invita a recitare spesso questo potente mantra ragazzi oggi cioè io boh lascio sta qui non so se sentite anche l'emozione perché io veramente cioè parlo di san germain san germain e su un 44 carte tanto la devo tirar fuori c'è niente da fare questo è un altro dei mantra ragazzi allora l'io sono che abbiamo recitato prima è proprio quello diciamo tra virgolette ufficiale ma va cioè sì ufficiale però è quello molto più importante molto più usato e degli insegnamenti che ci ha lasciato san germain che ricordo è stato un essere umano vero andatevi a leggere comunque sempre informatevi e comprate libri di telos se volete perché veramente lì vi spiega bene tutto questo è un altro di cui mantra molto potente più nuovo che viene sempre da canalizzazioni è in concomitanza anche in collaborazione a volte con gli esseri stellari famiglie galattiche di luce eccetera ho per voi un altro video pronto ragazzi che ho fatto che della vostra famiglia stellare galattica ve lo metto perché hanno dei messaggi per voi ok quindi ricordati questo mantra ripetiamoli insieme io sono luce io sono amore io sono verità io sono ragazzi quando fate questo voi non voi a voi sembra di recitare qualcosa e ciao no dopo che l'hai fatto invece in realtà non sapete quanta vibrazione crea questo ma ne crea tanta tre volte fatelo è queste cose così tre volte ragazzi il decreto no le cose più corte di solito queste qua ma anche un pochino più lunghe però non proprio tutte quelle quei testi lunghi questi qui tre volte non ti sbagli mai va sempre bene quindi che dirti stesa 2 ma non perché gli altri no perché i maestri ascesi non hanno i preferiti è ovvio perché sono nell'amore incondizionato che è proprio una delle condizioni per ascendere alla quinta dimensione dimensione quindi figuriamoci però alla stesa 2 in modo particolare maestro san germain ci ha voluto uscire proprio cioè io questo solo dico quindi magari nella 2 ci sono persone più non so confronto alla 1 o alla 3 che ancora non abbiamo visto però alla 2 si è voluto rivolgere in particolar modo quindi ci saranno persone veramente magari tanto tanto incastrate nella 2 sento questo perché si è uscito san germain qua in mezzo però non è detto cioè nel senso non ci sono i preferiti del gruppo 1 2 o 3 non esiste queste cose in quinta dimensione i preferiti nella terza ci sono tu sì tu no a te chiedo di più a te di no cioè nelle quinte dimensioni con gli esseri ascesi gli esseri di luce queste cose non esistono messaggio 3 stesa 3 che messaggio c'è per te oggi ecco in te si sono risvegliate capacità spirituale e psichiche cioè voglio dire no 17 17 allineamento ai corpi spirituali più alti benissimo se sono qui siete tutti molto messi bene devo dire ma probabilmente è la sincronicità anche del maestro asceso del settimo raggio che va portato qui e non chiede la fiamma viola a questo punto perché qui abbiamo gente che non credo proprio che non ne sappia niente da quello che vedo qua ti stanno dicendo che molti che ascoltano ma quasi tutti qua stanno già sulla strada giusta 17 17 ragazzi chi mi segue sempre avrà visto l'ultimo video che il penultimo non mi ricordo l'ultimo comunque vai a vedere quello prima di questo o i primi gli ultimi due prima di questo perché c'era questo 17 famoso che mi avete commentato tutti che c'era un significato molto importante e continua a uscire e vi dico solo questo continua a uscire questo 17 che può essere anche un 71 un 1 e un 7 il mese di luglio il giorno un numero civico qualsiasi cosa l'età di qualcuno il giorno del mese in cui vi capiterà una bella cosa eccetera eccetera allora in te si sono risvegliate capacità spirituale psichiche quindi allora qua continuate sicuramente nel percorso spirituale perché siete già su una buona strada avete già iniziato molti di voi hanno già iniziato qua chi vuole iniziare oggi sono ben felice che se volete iniziare ma veramente tanto perché contribuirete comunque all'innalzamento dell'energia di tutto il pianeta più persone siamo meglio è che tengono alta questa energia anche per quelli che non non sono ancora diciamo in quello stato di poter contribuire avendo un'energia magari piuttosto bassa e cerchiamo di aiutare tutti ad alzare l'energia perché fa bene al collettivo e fa bene a tutti qui il discorso individuale non ci deve stare ci deve stare solo perché crescendo tu certo che devi pensare a te quindi individuale ma crescendo tu la tua missione deve essere quella comunque per il collettivo per tutto il collettivo se no non andiamo da nessuna parte se sia insomma se ci sono solo 100 persone va bene che fanno un ottimo lavoro ma quell'altri 7 milioni non bastano 10 persone su 7 milioni questo voglio dire allora ragazzi se vi piace vi raccomando lasciatemi un like al video faremo altri decreti ma altre anche altre cose molto belle in collaborazione maestri ascesi ed arcangeli come da questo canale e così come da questo canale la crescita spirituale ed energetica ve l'avevo promesso che vi mettevo altre cose ve l'ho messe ve ne metterò ancora ricordatevi ragazzi i libri di telos perché veramente libri di telos cioè io per me sono tra e sono nel podio della mia libreria assolutamente primo posto se non addirittura il primo perché mi raccomando iniziate dall'uno non cioè hanno hanno un senso questi libri ragazzi non sono così è cioè non sono messi lì così a caso e se arrivate all'ultimo al 4 dove ci sono le meditazioni delle sette fiamme sacre se non avete letto quello di libri di prima non ci capite niente va bene quindi mi raccomando è perché sono pieni di informazioni che voi non immaginate cosa c'è dentro questi libri pienamente e totalmente canalizzati da questa scrittrice aurelia louise jones allora io vi saluto vi ringrazio di essere stati qui con me spero di sentirvi presto fatemi sapere cosa ne pensate dei decreti di queste belle cose di lavoro personale che andiamo a fare che andremo a fare e che dirvi vi mando un grandissimo abbraccio vi aspetto presto in un prossimo interattivo ciao a tutti ciao